Tom e Jerry sono in guerra da sempre, ma in un cartone animato non c'è mai nessuno che vince davvero, perché ogni episodio tutti e due rinascono. Ma per uno dei due, per il gatto, questa è un'eterna dannazione. Ben ritornati in un nuovo video misterioso, pieno di mostri, ma prima e sempre in ambito di mostri. Guardate che cos'ho appeso al muro. È bello o non è bello? Il libro dei mostri. Il mio nuovo libro, che esce il 22 novembre in tutte le librerie, ma che potete già preordinare su Amazon o anche in libreria. Link in descrizione nel primo commento. E tu, hai già preordinato? Te l'ho preso di brutto! Ho preparato in copertina bellissimo, tutta in oro, vero, bellissimo! Dentro ci sono 28 storie di mostri, mostri inventati da me, eh? Altro che stai, Renead, mostri laionici 20x. Adesso però... Mi autografi la mia copia? Sì, ma adesso bisogna prendere questa mela vendicativa e provare quel che fa. Perché siamo curiosi. No, sentiamo, sentiamo. L'ho preso di l'altra volta, oh! Non ti cagare addosso! Ho capito, ma pensavo che te la stessi per mangiare. Cioè, almeno aspettiamo ad entrare nella cella. Venite con me, piscialletti. E Anna, mettiti due dita in bocca e svegliati! Che oggi è una giornata piena di mostri. Entra qui, ciccola, devi mangiare tu. Beh, devo già mangiarla io, io lo sapevo, guarda. Prendi questa mela e inizia a addentarla, my friend. Oddio, adesso subito, cos'è in mezzo? Io rimango qui, qui con te, perché voglio vedere che cosa succede. Inizia a mangiare. Ok, sei pronto? Dimmi tu qual, e adesso? Vai, vai, mangia. Ok, lo faccio e lo faccio. Oddio, che succede? Vedi? No, ho capito! La mela mangia a te! Tu non è che mangi la mela! Esatto, provala! Ho capito! Ed è anche infinita, quindi praticamente tu continui a mangiare. Io ora non ho fame, però me la tengo e provo appena sarà il momento. E quando tu la mangi, sei tu a perdere vita, perché in realtà è la mela. È come se mangi te stesso, è una cosa continua! Oh mio Dio, ma ti sfami quando la mangi? No, penso di no. Penso che ti faccia soltanto male. O forse ti sfama, Cico. Ma all'inizio ti sfama, però ti scelte subito. Quindi ti mangi da solo, che schifo! Anna! Ti avrò subito! La porta, Anna! Oggi tu non sei per niente sul pezzo. Ti sento già che non sei sul pezzo. Ma io non lo so, ho paura che ogni volta esca qualcosa. Già che avete mangiato quella mela con quella affare orribile. No, Anna, ora stai solo biascicando a spam delle parole che non hanno senso. Hai bisogno di essere spadata per riprenderti? Come ti permetti di dire che quello che dico non ha senso? Hai bisogno di essere spadata per riprenderti? Vuoi che ti spado io con la tele? Vabbè, non spadatevi, non baciatevi, possiamo continuare. Che hai detto, tu? Aia, aia! Male viene per nuogere. Abbiamo dovuto camminare, ma adesso posso mangiare la mela vendicativa. Così provo anch'io. No, Lion, ti torna la fame, te lo dico. Lion, non stai attento, ti prego, dai, fa schifo! Porca miseria, mi ha tolto cinque cuori, bro. Mordi te stesso, te l'ho detto. Cinque cuori, eh, tantissimo. C'è come se ti facci morso un braccio? Adesso però, basta, non è più tempo. Di avere pensieri per la testa. Dobbiamo scendere nell'SCP di oggi. Eh, ma Lion, guarda qua intorno cosa c'è. Ma infatti è pieno di cose questa roba qui. Un'altra volta era tipo formaggio, me lo ricordo. Sembra formaggio, eh. È proprio formaggio. Scendo, vediamo. Dovrebbe essere quindi un topo. Dai, attento, ti prego. O forse un altro animale a cui piace il formaggio. Non mi viene in mente. Oh, cos'hai visto? Cosa c'è? È interessante. Venite, venite. Questi sono Tom e Jerry. Oh, Dio, è vero? È il cartone, c'è anche scritto. Il cartone perduto di Tom e Jerry. Vedete? Ho capito, sto Jerry non è per niente tranquillo. Ma non è mica normale, infatti. Jerry è il topo, giusto? E invece è Tom e il gatto. Esattamente, Tom e il gatto. Ho capito. Venite con me. Dobbiamo arrivare fino in fondo anche a questa. Anche se sembra spaventosa. Quindi... No, Lion, io ne ho restato dietro, guarda. Altro che in fondo. Resto qui. Oh, mio Dio, guarda quanto succo per terra. Guardalo lì. È sopra il tavolo. Dio, mio Dio, guardalo. Guarda che aveva spaccato il topo. Guarda la mano. Guarda la mano. Eh, la mano è tagliata, eh. Oddio, non l'è tagliata. È piena di succo, diciamo. Ah, capisco. Madonna, che brutto, che inquietante. E guarda il topo. E ha ancora il martello in mano. Oddio, quindi l'ha preso a martellate. Beh, ma anche il disegno alla parete. Cioè, alla fine sta succedendo la stessa identica cosa, eh. Oh, è vero, è a pezzi. Che schifo. Mio Dio, che cosa disgustosa. Però mi sembra abbastanza impegnato. Che forse non si accorgerà nemmeno di noi quando entreremo. Eh, mi sa che si è accorto di noi. E ti sta pure guardando, più che altro. Pezzo di maiale. Tom. Dai, oh mio Dio. Ascolta. Però è strano, perché di solito nel cartone animato è sempre Jerry che ha la meglio su Tom. Non il contrario. Eh, ma questo è il cartone perduto, infatti, eh. Era per quello, capito? Perché quel cartone... Perché quella cosa non succede mai che è Tom che vince. Esatto, è quello dove si invertono i ruoli e questa volta vince lui. Senti. Dai, attento. Io lo prendo. Oddio, è pesante, eh. Ma questo pure è grossissimo, oddio. Si fa fatica a spostarlo, talmente grosso. E lo metto... Ce la fai? E ho un po' paura per questo martello. Quale è l'angolo qua? Ok, vai, chiudilo. Ok, aspetta che lo chiudo. Ecco fatto. Ok, perfetto. Va bene, va bene, va bene. Ok, la casa... Me la ricordavo un po' diversa. Però, effettivamente... C'è qualcosa che non va, eh. Laion, oh mio Dio! Oddio! No, Laion l'ho visto a destra! Cos'è? In piedi! Ma si è ricomposto! Che schifo! Era a pezzi sul tavolo due secondi fa. Non ci sono più i pezzi, infatti! Eh! Ti sei girato, l'ho visto che si tirava su e scendeva dal tavolo. Occhio, occhio a quello che tocchiamo. È entrato lì dentro, che schifo! Ho visto, ho visto. Però sto pensando che queste cose... Anche questo pavimento, questo tappeto... Mi ricordo che c'era una cosa del genere che faceva male. Quindi, non... Oddio, Laion. Laion, eh, te l'ho detto che non dovevi toccare nulla, però... No, Laion, che ti ho fatto come un topo! Come il topo. Aspetta. Era una trappola! Ce la fai a romperla? Anna, eh... No, Laion è impossibile! Come fai? Non ti voglio spaventare, però... È indistruttibile questa cosa, Anna. Che cacchio! Oh, mio Dio, adesso! No, Anna! Oddio, guarda, sta continuando a farne! Anna, stai peggiorando di brutto la situazione. No! No, aspetta, aspetta! Ho un'idea! Eh, posso mettere... Non posso neanche mettere portali! No, non puoi mettere niente di niente. Io ho un altro piccone, magari. No, non rompe neanche questo. È proprio indistruttibile. Ti voglio portare via un blocco di gabbia. Aspetta, ci penso io, ferma, eh! No, 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 no! Ehi, 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 ehi! No, Anna, Anna, non si può portare nemmeno via il blocco di gabbia. Cioè, oh, ti libera lui! Cosa? Ti libera lui! Ti apre lui! E face perché vuole che entri! Vuole che uccidiamo il topo! Hai capito? Noi dobbiamo aiutarlo Effettivamente lui probabilmente aveva messo queste trappole per il topo Ha visto che ci siamo finiti noi O perlomeno io si è arrabbiato E ha detto no è di là che dovete andare Adesso che lo sapete non toccate più quei cosi Mi raccomando Io sono già entrato però Cerca Anna mi raccomando di starmi a presto e di non fare danno Ok dimmi se posso già entrare Mi pare di sì Ok arrivo Ci sente rumore tipo di gabbiani Ma dove sei io? Sì sì di gabbiani Ci sono degli uccelli che uccellano da qualche parte E siamo chiusi dentro Potremmo spaccare per uscire Siamo in una prigione E se vedi qua sotto c'è un piattino Come se ti dovessero passare del cibo Sì e c'è lui anche Che si sta studiando la situazione Io penso che ci convenga a spaccare Perché non vedo altro Ma puoi saltare in qualche modo non penso No 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 non mi sembra ci fossi via d'uscita È proprio tutto chiuso Mi raccomando sempre con le torce in mano Anna Eh non facciamoci Dai tranquillo Hai visto quell'immagine lì? Ho visto sì È sempre Io pensavo non vederla Oddio Che tante È sempre questo episodio perduto di Tom e Jerry No? Che di solito sono comunque abbastanza family friendly Ma in questo episodio Sì esatto Invece qui è tutto una cosa devastante da vedere Beh non esagerare dai Non abbiamo visto ancora niente A parte il topo Lion non te lo hai dimenticato Il topo a pezzi sul tavolo Sì? Vabbè a me sta sulle balle il topo Oddio guarda guarda qua Oddio cos'è qua? Guarda che sorriso psycho Mamma mia Oddio mio Ah c'è una botola qui Qui ci sono dei giocattoli Oddio Oddio Di solito si vede sempre o la padrona di casa o la domestica Ma non si vede mai nessun altro Guarda quanti corpi che ci sono qui per terra E questo è lo scantinato di Tom E credo che lui voglia che noi lo seguiamo Perché non ci sta attaccando Al martello potrebbe Però è quieta altissimo Poi guarda cosa ha anche in mano Oddio Considera che normalmente Tom potrebbe avere sentimenti vendicativi Verso tante persone Compresa la padrona di casa che lo trattava male ogni volta Secondo me vuole che ammazziamo il topo Perché lui da solo non ci riesce Cos'è quello? Infatti Dario un cos'è a terra? È un tipo in due No Ho capito Cioè metà del tipo Perché l'altra metà non Quello della camera sopra Hai capito? Ah il bambino Oh mio dio È piccolino infatti No è terribile Tipo il padroncino no di Tom e Jerry Però stavo pensando Se Jerry Prima Che era stato ammazzato praticamente Si è ricomposto Tom deve essere super arrabbiato Perché nel mondo dei cartoni Quando tu uccidi un personaggio Ricompare sempre magicamente Non muore mai Si infatti in ogni modo Qualunque tecnica usi torna sempre Quindi probabilmente lui vuole Che noi lo aiutiamo A uccidere una volta per tutte Jerry Perché lo odia Ma io stavo cercando anche qui sotto Hai ragione Può essere Ma come? Se non c'è riuscito lui E hai visto cosa ha usato Come facciamo noi? E magari c'è un modo no? Cioè noi siamo al di fuori del loro mondo Quindi Per assurdo magari lo possiamo cancellare dalle pagine Oh magari intrappolare Se trovi la gabbia di prima Magari ci riesci E' vero Magari basta quello Ho trovato un codice E un numero E all'inizio c'era un percorso Dove bisognava mettere un numero Si c'era una porta col codice Io andrei prima alla porta col codice E poi avanti 5 7 3 4 Lo metto subito E mi sa che è proprio l'unica via Sai? Ok Ok ci siamo Allora Fammi vedere un po' Ci abbiamo una porta Ma sembra tutto un grandissimo magazzino Vedi ci sono casse ovunque Ok qui servono 4 oggetti E credo che servano per aprire questa porta Esatto E infatti c'è già lì il token Esatto La palla di Tom Il martello di Tom Il formaggio di Jerry E un osso Spike Bone Appuntito Un osso appuntito Ah no no Spike È il cane È l'osso del cane Spike È vero È vero è vero L'altro nemico di Tom Povero Tom Non c'è da stupirsi Che si è impazzito E diventato cattivo eh Qui c'è l'altro del venditore Però Però non c'è Non c'è il venditore Quindi vuol dire Infatti non è finito Oddio Oddio C'è il venditore Mamma mia che paura Ok C'è il venditore Possiamo comprare No Perché non abbiamo niente Non abbiamo soldi Non abbiamo neanche un euro Vende un pallone da basket Vende una specie di maglia Un'armatura Non lo so Sembra potente quell'armatura Però guardala E vende anche il libro dei mostri Guarda un po' È il mio libro dei mostri Però ce l'ho già Quindi non ho bisogno di andarlo a prendere Non è che quella palla È la palla di Tom Potrebbe essere Quindi ci servono 20 dollari Per poterla comprare Esattamente Cerchiamo ovunque Di solito sempre In una stanza segreta Proviamo a fare prima Cioè Andiamo avanti Se poi non lo troviamo Non troviamo i soldi In qualche maniera faremo Capiremo che dobbiamo tornare indietro Per Cos'è questa roba gigante? Una trappola Sembra tipo una montagna È vero Guarda Quello è il formaggio Non fare come prima Non tocco nulla Perché fidati Che lì secondo me Si muore di brutto E anche qui Sono tutte trappole Anche questa è una trappola Scendi ma sei pazzo Oh mio Dio C'è un topo morto sopra questa Eh Occhio Perché facciamo la stessa fine In un attimo Anche qui Ah c'è Gerry Non salire Non saltare sulle trappole Oh Un coltello Anna Scappa Anna corri di qua Corri di qua Entriamo in una porta Ok Come facciamo Entriamo in questa porta qui Entra Entra dove sei Corri corri Chiudi 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 Oh Ma non mi seguo Ma no Io dietro di te Ancora Ma basta Ma che Mamma mia Oh mio Dio Gerry hai da Ok Il nascondiglio di Gerry Non siamo proprio nel posto più sicuro del mondo Però facciamo finta Che vogliamo salire fino in cima Ok Lion non è che questo posto sia meglio di quello di Tom Però anche qui c'è succo di pomodoro ovunque Scheletri ovunque E c'è anche Gerry che è più cattivo Allora facciamo così C'è 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 Gerry comunque Allora facciamo così Noi passiamo da sopra C'è Gerry Però se noi siamo veloci In teoria possiamo arrivare anche prima di lui Vedi Anna io metto un portale lì Ok E un portale lo metto Ma come si corri Anche perché lui sta cadendo di continuo nella lava Ok aspetta aspetta Perché voglio fare le cose bene Altrimenti rischiamo di cadere noi nella lava E' anche complicato quindi deve essere preciso Ok vieni Poi l'ultima parte ci sono dei laseroni C'è una scaletta vuoi schivarli? Ma guarda Cioè in realtà è fattibile eh Non è che sia così difficile passare Però potremmo anche Dai non è troppo difficile In teoria è più a misura di topo che di umano Eh ma è alto per noi però eh Quindi secondo me conviene fare prima Ma prova a piazzare dei blocchi Ah quello ti fai prima infatti Fare prima o sì Non bisogna dimostrare niente a nessuno ragazzi Dobbiamo essere furbi Ma è lunghissimo sto percorso Guarda quanta roba Uh Anna Ci sono pure dei parassiti Oh mio Dio ti aiuto Abbiamo anche tanti forse E' solo uno E' solo uno per ora Ma nascono dove ci sono tanti Corpi Decomposti Capite no? E' vero li vediamo sempre dove ci sono Che ne sono tutte Oh mio Dio attento Ci sono cose di larmi Sono sempre parassiti Anna Cerca di non morirci mi raccomando Che sarebbe Tranquillo ne approfitto anche per usare la tele Che così magari si spacca Ok allora facciamo un'altra volta Lo stesso gioco Così Oddio ci sono altri Anna tu non No Anna hai fatto Hai sbagliato di brutto Hai sbagliato di brutto Qua ci stavano per morire di brutto tutti e due Ma la testa Io non ho proprio no Mamma mia Tranquillo Tranquillo Io ho bisogno di qualcosa da mettere addosso però Mi serve un'altra armatura Perché con questa non riesco Quella nel negozio Devi comprare per forza oggi Esatto quella ci potrebbe aiutare Anche perché noi abbiamo sempre sto giubbottino Che non serve a nulla Per me a niente Abbiamo però il giubbottino di Jerry Sì ma adesso cosa dobbiamo fare Tornare indietro Oh devi tornare indietro Come fai è impossibile Dovevamo mettere un portale all'inizio Maledizione Eh Ho un'idea Se saliamo sul muro là sopra Magari riusciamo a vedere la fine Riesce a buttare giù il portale Proviamo Però Lion c'è Tom Oddio Entra Entra nel portale Lui non ci passa Ok lui non ci passa Tranquilla Bisogna essere lenti Eh in teoria Tom Non è dalla nostra parte Ma infatti io non vedo neanche più niente però Mi sa che ci porta lui Al posto dove dobbiamo andare Però non vedo niente nemmeno io Mi tolgo Mi metto la maschera antigas Sì siamo all'inizio Anna Siamo tornati all'inizio Porta con lui Aspetta qui c'è Jerry però Stai attento Non ti impanicare Anna Odio Quando ti impanichi Calma Lo so però qui A un certo punto è uscito Jerry dal formaggio Con un coltello in mano Lo so Hai paura dei coltelli? No È un topo No ho paura dei topi assassini onestamente Cosa vuoi che faccio? È un topo? Eh Questo è Il cane Spike Questo è il più pericoloso Ci sono i suoi cibi preferiti Ovviamente carne Proviamo a continuare senza aspettare Stai attento Ho visto C'è il topo C'è Jerry In teoria Jerry va più d'accordo con Spike Che con Tom Ma solo perché Spike anche odia Tom Quindi secondo me c'è anche Spike qua in giro Esatto E non sarà felice di vederci Io penso Dobbiamo stare attenti Però ho trovato una via Attento Ah ho capito Anna Così No Devi mettere le cose Ci servono le carni Che gli piacciono a lui Dove vogliamo portare il cibo qui? Però Se siamo furbi Possiamo rifare il percorso Se quello faccio io Vado a prendere le bistecche E tu invece cerchi Se c'è qualche stanza segreta Con i 20 dollari che ci servono Eh effettivamente Ci mancano anche quelli eh Io mi sono anche mezzo perso Dentro il labirinto Tanto per cambiare E c'è anche il topo Però questo c'è in riadizione Perché sta scappando? Non lo so Forse sta andando a cercare Il suo amico Spike Qua c'è un'altra cosa Ok Anna Facciamo così Dividiamoci Tu vai a cercare Le carni E le metti a posto Subito Quando ci sei Mi chiami Invece io Rimango qua Qua dice Lion stai attento Perché quella era una trappola gigante Io non vorrei che tu ci debba salire Mi dice di usarla Però hai visto? Eh sì eh Che faccio? Provo? Eh non lo so È l'unica Eh provo dai Ah infatti questa volta Non è una trappola vera È una finta trappola E infatti Sotto C'era un passaggio segreto Con dei soldi Quindi Anna ci siamo invertiti Buonissimo E anche due trappole Probabilmente possiamo usarle queste Quelle di prima In cui c'è finita Anna? Sì Possiamo usarle per catturare Jerry Per intrappolare Jerry Esatto Io comunque ho le bistecche E sto andando anche a metterle Ti aspetto per metterle Però qui ci sono due Due indicatori Cico vedi Uno verde E uno rosso Oh aspetta No Io prima l'ho visto Quello era rosso Quello a destra Erano rossi Sì esatto Quindi ho fatto qualcosa di buono Anna metti le bistecche Ho capito Se metto le bistecche Probabilmente si accende anche l'altro Le sto mettendo Una Due Tre Messe Ok E io per farti tornare qui Lì tu dovresti avere Esatto Sei acceso Dovresti avere un portale Giusto? Giallo Blu Ok ti metto il giallo Da questa parte Ok ci sono Perfetto Perfetto Oh si è aperta la porta No no Cos'è quello? È Spike È enorme Spike quello Mamma mia Quanto è colossale Ok Oddio Ma si sta balciando Tom dietro Lion Guarda la foto dietro Oddio Oddio Ma che cursed però è Possiamo fare una cosa Lion Ti sta avvicinando Ci penso io Ne approfitto Tu intanto cerca quello che devi cercare Probabilmente nella cuccia C'è l'osso di Spike Anna ce l'ho Però Cosa facciamo Dobbiamo scappare da lì Vai 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 Non ti preoccupare Magari si rompe anche la spada Tanto non ci passa lui Anna Vieni vieni Non ci passa Vieni vieni con me Lascia perdere È troppo grosso E non ci passa dalla porta Madonna che mostro Era bruttissimo Era gigante Però abbiamo un altro oggetto L'osso di Spike Osso Formaggio I dollari Quindi possiamo comprare Anche la palla È vero Cicco se fai un'altra volta Quel verso Io ti giuro Ti faccio mangiare dal cane Cioè ma non è possibile No no scusami Non lo so neanche io Come l'ho fatto Scusa Perché ruti Sembra che ruti Ma ti pare Ma è il momento Di fare i ruti Ma che schifo Ma che schifo fai Ma non ti vergogni La lion di qua Segui le tracce queste Ti devi vergognare Ti devi Vabbè scusami Ma io non lo faccio Mica apposta È la paura Ma ti fa ruttare La paura adesso No non ruto Non so neanche ruttare io Ma che schifo fai Ma che schifo sei Eh Ruttone maletto Non voglio ruttare Sai zitto La lion aspetta Cerchiamo di ricapitolare un attimo Noi abbiamo L'osso di Spike Abbiamo adesso la palla Che andiamo a comprare Cosa ci manca Ah Oddio Oddio Che paura Ma perché Aspetta Lion guarda C'è un buco nel formaggio Possiamo entrare Il problema è uno lion L'ultimo oggetto Io mi ricordo Era il martello di Tom Però c'era sempre lui È vero E lui non ce lo darà A meno che Non prendiamo Jerry Per lui Gli farebbe piacere a lui Se noi prendessimo Jerry Aspetta qui c'è un libro Sì Ah È un gioco Dobbiamo trovare più formaggio Di Tom E forse lui Oddio Anna Attento Cosa sono Così è Quanti sono lion Sono tanti e fanno anche un po' male Fanno un Qui ho trovato un formaggio Che faccio lo prendo Prendi tutto Prendi tutto Riempiti le tasche Ne ho tanti dietro Ne ho tanti dietro Cico te venisse Lion sono un bocco Una morte Te ne venisse Infame Schifoso Sempre colpa tua È No 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 Anna Scappatene Lion arrivo 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 Scappatene 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 Sto bene Io sto bene Sto bene Si ammazzano in fretta Però eh Muoiono con due spari Io li riesco a uccidere Lion è pieno È pieno Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Oddio quanti sono C'è che Tom Sono mille 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 Più che mille Però io Lion qua c'è di tutto Vieni porta i formaggi Porta i formaggi Io ne ho tre Tu ne hai qualche altro Secondo me non siamo Io ne ho solo Però ho trovato un cimitero Dove c'erano delle casse Ok va bene Va bene Tanto lui ne avrà di meno Ok l'ho messo dentro Ok lui ne ha Fa vedere Ne ha due Lui ne ha due Noi ne abbiamo quattro Abbiamo vinto Porca miseria guarda Ho sudato freddo io In questa occasione è stata Veramente poco raccomandabile Ha aperto la porta? No No però Io però non vedo più niente Che succede? Forse ci dà il martello? Si è aperta la porta Ma è entrato dentro lui? Sì Forse ci dà il martello Qui dentro Che posto è? Oddio c'è un picco No Oh mio Dio E qua è depresso Vedi Poverino Ma perché ha perso? No non è perché ha perso Questa è la sua vera natura No Tutti i giorni Sconfitto Da Jerry E lui alla fine Non ce l'ha fatta più E quindi vedi Cioè È terribile ragazzi Ma magari quello che vediamo finora È tipo il suo spirito vendicativo Può essere Può essere Cioè lui è ridotto così Eh vedo È tipo in una bara Ah è vero è vero Sembra sì sì Siamo sotto terra È tutto di legno Effettivamente È vero mio Dio Usciamo da qui ti prego Beh del resto lì c'era un simbolo Abbastanza evocativo Eh non voglio stare a spiegare Però insomma Mi sa che è morto davvero C'è un'altra di queste Creature Ci penso io Tu passa attraverso Però non sono fortissime Effettivamente abbiamo Panicato più che altro Aspetta Oh Dio è tornato È tornato lui Allora lo metto Lo metto in trappola Lo metto in trappola Anna Occhio eh Occhio Vedi 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 brutto infame BAM Almeno abbiamo vendicato pure Tom Brutto imbecille Non è che ci serviva anche qualcosa da Jerry per caso Non mi ricordo No no la palla però è in vendita Esatto dobbiamo andare nel negozio Vieni con me Ok E abbiamo anche catturato Jerry Secondo me per una volta a Tom Gli abbiamo dato quello che meritava poverino Perché è sempre sconfitto Poverino guarda mi fa una tenerezza che non ha idea Allora il negoziante dovrebbe essere qui Giusto Anna Sì ok E noi dobbiamo comprare la palla Giusto ragazzi Per 20 Sì sì Esatto Quanti soldi hai? Ne abbiamo più che abbastanza Possiamo comprare anche per altri 10 L'altro oggetto Che era L'armatura L'armatura Allora 30 Oddio è anche qua a fianco a te oddio 30 per 10 la palla Più altri Per 20 la palla Più 10 L'armatura Che mi serve Ok Ok abbiamo la palla Sto dato tutto Prendi Tom ball Ok E questo è l'ultimo oggetto che ci serviva Più la armatura Che è peggiore in realtà però della nostra Quindi Com'è possibile? Però se volessi cp quasi Ma è invisibile Ti dà l'invisibilità E beh allora cambiano Beh è buono Le cose cambiano decisamente Anna veloce riportami dove sono gli oggetti da posizionare Ok perfetto Allora Spike Bone L'osso del cane E ce l'abbiamo La palla di Tom L'abbiamo presa appena adesso Metto prima il martello Poi la palla Di Tom E ci manca il formaggio di Jerry Il formaggio di Jerry Ho messo tutti quanti gli oggetti E Si è aperta Si è aperta Si è aperta questa porticina qui E infatti dentro Jerry Chiudi chiudi poverino Chiudo 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 L'abbiamo anche intraccolato L'abbiamo umiliato Anna Non importa se si è liberato adesso Per il momento è sconfitto E noi abbiamo anche vendicato un pochino il povero Tom Che è sempre quello che prende le botte Ma non oggi E oggi Lion out Ciao